Buongiorno. L'ordine del giorno reca l'audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge 2059 Costa, recante modifica la legge 9 gennaio 2019 numero 3 in materia di prescrizione del reato di Luca Poniz, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, accompagnato da Giuliano Caputo, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Avverto in via preliminare che secondo il parere della Giunta per il regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web tv della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte dell'audito non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e quindi dispongo l'attivazione dell'impianto. Pregherei ai nostri ospiti di contenere il proprio intervento in tre dieci minuti canonici per dare modo ai deputati di porre loro delle domande, cui seguirà la replica dell'audito che potrà consegnare alla Segreteria della Commissione un documento scritto o farlo anche per venire successivamente. La documentazione in assenza di obiezioni sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera. Do quindi la parola al Dottor Luca Poniz. Grazie Presidente, grazie onorevoli di averci ricevuto i diversi invitati e di ascoltarci. Cogliamo volentieri l'occasione che ci viene offerta per illustrare la nostra posizione non inedita, credo conosciuta, ed è relativa alla disciplina complessa della prescrizione, quale oggetto della riforma della legge introdotta alla legge 3 del 2019 e della correlata ed oggi in discussione proposta di abrogazione o, per quello che è dato a comprendere, anche di possibile rinvio. Conosciamo bene, perché abbiamo partecipato in questi mesi al dibattito che si è acceso a seguito della promulgazione della legge di prossima entrata in vigore. Conosciamo bene il dibattito e ne conosciamo anche alcune opinioni radicalmente critiche ed è su questo che vorremmo concentrare la nostra attenzione. Come noto, l'Istituto delle prescrizioni è un istituto di diritto sostanziale, soggetto come tale alle garanzie costituzionali di non retroattività, il che significa, come devo naturalmente dare per scontato in questa Aula, che i suoi effetti si produrranno pro futuro. Il che significa dunque che il primo gennaio del 2019 non si produrranno ipso facto e immediatamente effetti, come dire, di sistema di particolare complessità. Si produrranno in proiezione futura, mano a mano, che coloro che dovessero aver commesso un reato dal primo gennaio del 2020 in avanti, saranno soggetti a un regime processuale diverso rispetto a quello precedente. Perché questa apparentemente ovvia premessa, direi ovvia e certamente conosciuta in questa sede? Perché questo, a nostro modo di vedere, stempera alcune drammatizzazioni, alcune infatizzazioni che sono state fatte dell'impatto di questa disciplina. Le stempera nella misura in cui, producendosi gli effetti pro futuro, nel frattempo, calcolandosi i vari effetti potenziali. Nel tempo vi è tutta la possibilità di introdurre le altre misure processuali, ordinamentali e organizzative che anche l'Associazione Nazionale Magistrati ha immaginato. Abbiamo sentito dire in questo periodo che vi è bisogno di altre riforme in attire di giustizia ed è naturalmente un'opinione che condividiamo. Non soltanto la condividiamo ora, ma per tempo ne avevamo dato una ampia esemplificazione. Mi sono permesso di portare all'attenzione degli onorevoli loro le proposte che avevamo fatto per tempo, addirittura nel 2018 sedendoci al tavolo del Ministro della Giustizia, insieme naturalmente agli avvocati con i quali abbiamo condiviso questo percorso, indicando le linee direttrici delle riforme che secondo me sarebbero necessariamente concorrenti per gestire complessivamente l'impatto della nuova misura della prescrizione del suo sistema, indicando due direzioni complessive. L'anticipazione alla fase delle indagini e del momento centrale ovviamente dell'indagine del processo accusatorio. Sottrarre al dibattimento che oggi com'è non è in grado di tollerare i numeri e l'impatto sul sistema dei nostri e la quantità di processi che abbiamo. Invogliare gli indagati, gli imputati ad accedere ai riti alternativi di cui immaginiamo che venga allarcata la platea applicativa, in modo da sottrarre al dibattimento che la fisiologica siede certamente le responsabilità nel rito accusatorio, quello che caratterizza il nostro sistema, e contemporaneamente lavorare per un potenziamento dell'appello, un potenziamento organizzativo dell'appello e un potenziamento processuale dell'appello, immaginando un rito semplificato a seconda dei diversi tipi di reato. Perché questi due argomenti apparentemente eccentrici rispetto al tema delle prescrizioni? Perché la visione che l'Associazione Nazionale Magistrati ha da sempre, non soltanto con questa dirigenza, sull'Istituto delle prescrizioni e la richiesta di interromperla, non di sospendere, di interromperla definitivamente con la sentenza di primo grado, nella nostra prospettiva avrebbe un duplice beneficio. Evitare che un uso improprio della stessa, che non è un uso improprio soltanto delle impugnazioni, è un uso improprio di tutto il processo. Questo non lo diciamo soltanto noi, l'hanno detto giuristi autorevoli come il dottor Canzio, relazione inaugurale all'anno giudiziario di Milano del 2012, che cito nella mia relazione, lo dice un processualista di fama come il professor Gatta, che proprio ricorda il paradosso di una prescrizione che è un male utilizzata per curare un altro male che è la durata del processo. E qui veniamo a quello che interessa a noi. Non vi è nessun dubbio che la prescrizione abbia avuto surrettizzamente anche l'impatto, quindi l'effetto di regolare la durata dei processi, ma questo è per un insano realismo che non fa parte della fisiologia dell'Istituto delle prescrizioni, né è una patologia. Ed essendo una patologia, secondo noi va eliminata dal sistema restituendo al processo la sua funzione propria. D'altra parte, se si dice che l'Istituto delle prescrizioni si fonda su due presupposti, il diritto all'oblio dell'imputato, cioè quello di non essere giudicato in un tempo indeterminato, e se si dice anche che questo serve anche per garantire una maggiore efficacia di un diritto processuale dell'imputato, cioè il diritto di difendersi provando, 111 della Costituzione, si vedrà che queste due ragioni che dovrebbero giustificare la vecchia disciplina delle prescrizioni e vengono meno. Perché una volta che vi è una sentenza di condanna di primo grado, che ciò a cui noi chiediamo venga interrotto definitivamente la prescrizione, il diritto all'oblio si è già di per sé fisiologicamente consumato. La potestà punitiva dello Stato non soltanto non si è fermata e non ha mostrato disinteresse, ma si è addirittura rafforzata. E il diritto di difendersi provando nel nostro processo e in ogni processo accusatorio che si rispetti lo si esercita nel processo di primo grado, dove la fase dell'assunzione delle prove avviene in senso proprio. Mentre nel processo d'appello, come tutti loro sanno, è un'eventualità remota, oggi ancorata al verificarsi di determinate situazioni processuali, è meno che meno in Cassazione, dove non ci si difende provando, ma si chiede ai giudici della Cassazione di verificare i criteri di giudizio svolti nei precedenti processi. Sicché le ragioni che sostengono l'istituto delle prescrizioni, che ha una funzione sostanzialmente di garanzia, ma non processualmente di garanzia, sarebbero, come dire, verrebbero meno una volta che vi è una sentenza di condanna e, d'altra parte, questo è, parallelamente, viene in tutti gli ordinamenti del mondo, dove non si conosce un'esperienza simile alla nostra, nella quale, pur intervenendo una sentenza di accertamento della pena della responsabilità, il processo viene frustrato per il mero decorso del tempo. Insomma, un uso del tempo funzionale a mangiarsi con il reato o anche il processo. Quando l'Associazione Nazionale Magistrati, non soltanto quella da noi oggi guidata, ma anche quella nel passato guidata, fino a risalire a questa CDC con la Presidente del Dottor Davigo, risalendo ancora indietro alla Presidente del Dottor Sabelli, risalendo ancora indietro alla Presidente del Dottor Palamara, ma negli anni 90 alla Presidente dell'Attoressa Paciotti, queste richieste sono sempre state fatte e nessuno ha mai avanzato obiezioni di principio a questa richiesta. Sono state avanzate delle obiezioni, come dire, di sistematicità tra la richiesta stessa e altre richieste di tipo processuale, sulle quali anche noi abbiamo una particolare e risalente sensibilità. Dunque, secondo noi non è vero che il primo gennaio del 2020 si scatena un'apocalisse processuale. È un'infatizzazione che non ha fondamento. non è vero che è un'emergenza ingovernabile, è un'emergenza governabile e conseguentemente bisognerebbe mettersi attorno a un tavolo tutti quanti, noi gli avvocati, ma naturalmente la politica che può essere la responsabilità delle scelte, per compiere delle scelte in una direzione però che sia chiara. Troviamo su questo sorprendente che vi sia stata in questa stagione anche una demonizzazione dei diritti alternativi, che possono essere considerati come dire nefasti soltanto in una visione pura del processo, che però non è compatibile con il processo accusatorio. In tutti i sistemi del processo accusatorio funziona se ed in quanto vi siano diritti alternativi, dove cioè lo Stato baratta in qualche misura la sanzione alla quale riconosce uno sconto con una celerità determinata del patteggiamento del diritto abbreviato che sono l'unico polmone che consente al processo accusatorio di respirare e di restituire all'imputato nel processo le garanzie piene. Chiudo, credo di aver usato il tempo a disposizione, con una sottolineatura a cui tengo molto. Sempre dalla relazione del Professor Gatta, tanto di un articolo da ultimo pubblicato su Sistema Penale, una importante rivista che ha appena visto la luce. Il Professor Gatta richiama, come dire, ammonisce a non cadere nella trappola della rappresentazione alternativa, della contrapposizione tra garantisti e non garantisti. Non è che chi non vuole il sistema delle percezioni precedente non è garantista sufficiente. È un problema di equilibrio delle garanzie, di dove allocarle, di quale misura, come dire, a renderle coerenti con un'altra funzione del processo, che è quella di non disperdere l'accertamento dei fatti e non disperdere quell'accertamento delle verità, che è uno degli aspetti essenziali del processo penale, senza i quali esso si frustra. Esistono anche le vittime del processo penale, che naturalmente non sono gli unici aspetti del processo, ma sono una parte del processo. Secondo noi la riforma, come è stata immaginata dal Ministro con la legge 3 del 2019, va in una direzione condivisibile. Non tocca a noi naturalmente dire se sia stata fatta in maniera rituale dal punto di vista della coerenza con l'impianto legislativo in cui è stata collocata, se la scelta terminologica che è stata utilizzata a sospensione e non interruzione sia una scelta corretta. Sono discussioni che ovviamente meritano di essere fatte dal punto di vista giuridico, ma che secondo noi oggi non giustificano né un differimento né un'abrogazione. Vi ringrazio moltissimo. Grazie Dottor Poniz. Ci sono dei colleghi che vogliono parlare delle domande. Il primo che si è prenotato è l'Onorevole Vitiello. Prego i colleghi di contenere la domanda nella domanda e non in un'illustrazione enciclopedica. No, 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 cercherò di essere rapidissimo. Grazie Presidente. Presidente Poniz, buonasera e grazie per essere qui con noi oggi. Diciamo che partiamo da presupposti diametralmente opposti, ma fa parte delle culture giuridiche. Lei ha il suo vissuto, io il mio, faccio l'avvocato penalista nella vita, quindi diciamo che c'è una contrapposizione di rettica naturale. Non è il primo che conosce, perché sono abituato. Però voglio provare a darle ragione, nel senso che partendo dai suoi presupposti probabilmente c'è del buono in questa scelta legislativa. Innanzitutto le chiederei se è giusto, allorquando si approccia una riforma di sistema partire dalla patologia e non dalla fisiologia del processo penale. Io per patologia intendo quello che ha detto lei, la prescrizione, mentre per fisiologia intendo ragionevole durata. Noi non dovremmo proprio arrivare a parlare di prescrizione del processo, come avviene negli altri Paesi, come ha citato lei. Non se ne parla perché in realtà il sistema processuale funziona. Se funzionasse probabilmente il nostro sistema processuale non avremmo il problema della prescrizione, anche perché è un processo accusatorio. Passo alla seconda domanda. Lei ha fatto riferimento al diritto all'oblio e all'efficacia processuale citando l'articolo 111 della Costituzione. Anche qui mi trovo d'accordo, soprattutto quando lei fa riferimento esclusivamente, non so se questo è stato un lapsus della sua relazione, ma fa riferimento soltanto alla sentenza di condanna di primo grado e non alla sentenza di assoluzione. Allora mi chiedo se dal suo punto di vista invece rispetto a chi viene assolto in un processo dove lei ha ragione, l'appello è meramente cartolare per lo più, almeno all'80% delle volte è cartolare. La decisione di primo grado è una decisione che trova il suo fondamento dal punto di vista probatorio quando noi siamo di fronte ad un assolto, se per lei è giusto non avere il diritto all'oblio e soprattutto l'aspettativa che il processo si concluda davvero. E in questi termini concludo. Grazie. Grazie onorevole Vitello. Onorevole Annibali. Sì, grazie Presidente. Grazie anche al Presidente Poniz. Lei ha parlato di effetti pro futuro di questa riforma, ma io mi chiedo e le chiedo se non è forse vero che mettiamo il primo gennaio e viene commesso reato in flagranza, quindi sia un direttissimo, il giorno dopo c'è una sentenza di primo grado. Lo stesso pensiamo nel caso di un rito abbreviato, quindi forse questa narrazione non è esattamente aderente alla realtà che poi può accadere. Quindi gli effetti di una riforma si producono nel momento in cui questa entra in vigore. Quindi se anche lei è d'accordo con questo tipo di racconto che mi sembra più aderente alla realtà. Ha anche parlato lei di vittime se non ritiene che questa riforma che viene in qualche modo raccontata a favore delle vittime, dei reati che si costituiscono naturalmente a parte civile nel processo, possa andare davvero a loro vantaggio. Nel momento in cui noi, io ritengo, che invece si trovino in balia del tempo e che non abbiano una risposta di giustizia né sul piano personale né anche poi sul piano di riconoscimento per poi agire in sede di risarcimento. Quindi se in realtà questa vada a vantaggio o meno delle vittime, al di là dell'imputato, perché poi nel processo ci stanno anche più parti. Grazie. Grazie, onorevole. Onorevole Bazzoli. Sì, anch'io ringrazio il Presidente Poniz. Due domande molto semplici. La prima, lei ha detto che, e mi ricollego alla domanda che ha fatto adesso l'onorevole Annibali, che gli effetti si produrranno molto più in là. L'onorevole Annibali ha fatto un esempio, diciamo, di un'ipotesi in cui un reato si commetta dopo il primo gennaio, ci sia una sentenza molto rapida attraverso qualche strumento processuale veloce. E io aggiungerei una cosa. Siccome questa nuova disciplina si applicherebbe, in questo caso, alle sentenze di appello? Non ritiene che nelle corti d'appello tutte le sentenze appellate di primo grado sotto il vigore della nuova disciplina sarebbero inevitabilmente posposte a tutti gli altri appelli invece pendenti sotto la vecchia disciplina? Cioè non è un effetto automatico e inevitabile che nelle corti d'appello tutti gli appelli diciamo, fatti sotto il vigore della nuova disciplina di prescrizione sarebbero fatalmente destinati ad essere posposti, visto che non c'è più un problema di prescrizione e quindi necessariamente andranno in coda tutti gli altri. Questo non è un problema, diciamo, che potrebbe inevitabilmente comportare un allungamento indefinito dei tempi di decisione dell'appello. Seconda questione, c'è un presupposto che è sempre citato e che però io non riesco a capire e cioè il fatto che oggi, per come è strutturata la prescrizione, l'appello molto spesso viene fatto per cercare di, in qualche modo, approfittare della prescrizione che sappiamo in appello, insomma, è uno dei colli di bottiglia del sistema quindi molto spesso si può approfittare di queste circostanze. Si dice quindi se si toglie la prescrizione, tutti i reati diventi imprescrittibili dopo il primo grado, si eliminerà il problema degli appelli strumentali o fatti semplicemente per. Ma questo è però un argomento che io fatico a comprendere perché se penso alle ragioni dell'appello di una persona che è stata condannata e che si ritiene innocente, ovviamente quella appellerà in ogni caso, per quanto non ci sia più la prescrizione. Un colpevole, che sa di essere colpevole e che viene condannato in primo grado, per quale motivo deve far entrare, diciamo, far diventare giudicato immediato una sentenza di primo grado e non può invece approfittare proprio del fatto che si allungano i tempi del processo per arrivare il più in là possibile ad avere una sentenza definitiva di condanna. Questi argomenti, a me sembra, tolgano rilevanza e rilievo a quel presupposto che molto spesso è citato dai sostenitori della interruzione della prescrizione del primo grado che si eliminerebbero gli appelli strumentali. A me pare invece che questo non sia, però volevo capire se forse sono io che interpreto male. Grazie, donorevole Bazzoli. Donorevole Sarti. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente Ponis. Solo una domanda, perché è stato detto spesso nelle audizioni che abbiamo fatto finora che la maggior parte dei casi di prescrizione, anche dopo la sentenza di primo grado, riguarderebbero per lo più procedimenti o processi in cui vi sono imputati per reati bagatellari. Allora io giro la domanda a voi e vi chiedo se queste affermazioni possono definirsi corrette. Onorevole Costa. Grazie. Io avrei tre domande, ma molto secche. Prima domanda. C'è stata una riforma nel 2017 sulla prescrizione, riforma Orlando, con la sospensione di un anno e mezzo dopo il primo grado per le condanne e un anno e mezzo dopo l'appello. In più c'erano stati degli aumenti di prescrizione per, ad esempio, penso i reati contro la pubblica amministrazione, per effetto dell'aumento delle pene, per effetto di un aumento in seguito agli atti interruttivi. Non si ritiene, alla luce di quello che avete detto voi, che gli effetti si verificano dopo un certo tempo e non immediatamente. Attendere gli effetti e verificare se queste riforme producono, lo dico io che non le ho votate queste riforme. Producono degli effetti e quali effetti producono prima di intervenire normativamente con un'altra proposta che di fatto va a cancellare, a soffocare la proposta precedente. Prima domanda. Seconda domanda. Tema della prescrizione processuale. Voi ritenete la prescrizione processuale uno strumento idoneo a essere complementare rispetto ad una proposta di questo genere, quantomeno prescrizione processuale per appello e giudizio di Cassazione. Leggo che c'è anche una proposta di un collega che ha presentato una riforma più organica, del collega Di Leu, che prevede la sospensione della prescrizione, se non sbaglio dopo l'invio a giudizio, con una prescrizione processuale però per primo, secondo e terzo grado. Quindi la prescrizione processuale, io ho presentato una proposta di legge in tema di prescrizione processuale che ovviamente dovrebbe essere affrontata. Terzo aspetto. Non sarebbe stata più opportuna una riforma organica. Perché lei, Presidente, o io ho letto sui giornali, aveva parlato di squilibri che può provocare questa riforma. Oggi ci ha spiegato che lo squilibrio ci sarebbe probabilmente se non ci fosse un riequilibrio sui tempi attraverso una serie di iniziative normative. Però io penso che noi ci troviamo nella condizione in cui lo stesso Governo aveva la sensibilità che ci fosse uno squilibrio perché altrimenti non avrebbe previsto l'entrata in vigore della norma differita al 1 gennaio 2020 per colmare questo squilibrio attraverso una riforma acceleratoria del processo. Oggi la riforma acceleratoria del processo non c'è ed è per questo che è nata la proposta soppressiva che ho presentato. Mi chiedo, non sarebbe meglio prima di far entrare in vigore cercare di avere un quadro complessivo e non mandare avanti una parte senza sapere se poi ci sarà effettivamente una norma riequilibratrice. Tenendo conto che noi abbiamo oggi una situazione molto variegata nel Paese, macchia di leopardo in termini di prescrizione, abbiamo corti d'appello col 50%, corti d'appello col 3, 4, 5%, tribunali col 50% e lo stesso vale per le indagini preliminari. Quindi un intervento sul piano organizzativo che vada a vedere quali sono le ragioni di questa macchia di leopardo che è oggettiva. Ci sono altri interventi, quindi do la parola al dottor Poniz per le... Proverò a rispondere senza sembrare elusivo a tutte le questioni che ho cercato di annotare. Due domande, la prima e l'ultima, sono domande in realtà da non rivolgere a me ma ai vostri colleghi, nel senso che la modalità, i tempi, le priorità dateci dalla politica nell'approvare una norma o non un'altra, non possono riguardare la magistratura, riguardano il Parlamento, il Governo. Noi però abbiamo un alibi, se mi crede. Mi sono infatti portato i documenti che noi abbiamo depositati, all'epoca il Ministro della Giustizia che ho portato qui per confermare la cronologia della nostra... come dire, che avevamo immaginato e dalle quale spero venga restituita l'idea di una visione complessiva, dalla quale secondo noi però si può tranquillamente cominciare da una certa parte. Secondo noi, nella logica del sistema, la percrizione assume una funzione fondamentale. Si dice, sarà un lapsus quello sulla condanna? No, non soltanto un lapsus, ma una deliberata scelta. Noi abbiamo detto in tutte le sedi, anche la presenza dei suoi colleghi, delle Camere Penali, degli altri organismi dell'Avvocatura che quindi possono testimoniare in questo al Ministro. L'abbiamo detto che secondo noi la plausibilità di un lato interruttivo è legato alla sentenza di condanna per le ragioni che ho cercato di spiegare qui, che sono quelli che sostengono il rafforzamento della pretesa punitiva. Dunque, se nel caso questa riforma dovesse essere corretta, a mio modo di vedere dovrebbe essere corretta nella direzione della sentenza di condanna. Quindi non è un lapsus, ma un recupero di una nostra idea. E rispondo all'altro quesito, come dire, collegato alla sua domanda, il quesito non polemico, ma come dire forte. La questione della sentenza di assoluzione, mentre è in termini di principio incompatibile con la nostra prospettiva, nella pratica però ha una, come dire, scarsa drammaticità. Perché la statistica dice che soltanto 2% delle sentenze di assoluzione vengono impugnate dal Pubblico Ministero. Quindi il caso, che pur astrettamente rilevante, del quale le ho già dato una conferma della nostra spiegazione, non restituirebbe l'idea di una drammaticità degli effetti, anche se in punto di principio le do atto che la distinzione va fatta. Chiede la sua collega Annibali, chiedo scusa, non ho sentito bene, non ho fatto un tempo da notare tutti i nomi. Il caso che le cita del caso d'arresto in flagrante è proprio quello che, vistosamente, dà una risposta non problematica. Perché, come tutti sanno, in caso di arresto in flagrante, la Costituzione che prevede che il giudizio deve avvenire nelle 96 ore e in caso di applicazione della misura avviene una corsia privilegiata. Cosicché nessuno mai giudicato in stato di flagranza e portato in arresti in tribunale verrà poi esposto, anche se dal 1 gennaio si applica questa nuova, ad una balia del tempo, perché avviene una corsia privilegiata che impone un giudizio immediato anche nelle fasi d'appello. Quindi è l'unico caso nel quale gli effetti della riforma si possono misurare nell'immediatezza e l'unico caso per il quale il sistema ha già pronto una risposta di sistema che sottrarrebbe l'imputato giudicato per direttissima ad ogni qualsivoglia ipotetica balia del tempo. E anche su questo poi lascerei la parola al collega che altrimenti fa una presente pletorica e mi dispiace perché ha tanti argomenti da spendere. Guardate, io ho ascoltato, sono andato al congresso delle camere penali che si intitolava imputato per sempre, conosco benissimo le argomentazioni anche nobili naturalmente dell'avvocatura alla quale riconosciamo un ruolo fondamentale nella condivisione del processo che non è soltanto cose dei magistrati. Però questa è un'infatizzazione, imputato per sempre non esiste, è un'infatizzazione della vicenda. Per quale ragione mai un magistrato che domani non ha la scadenza 23 gennaio 2027 per la data delle prescrizioni dovrebbe dimenticarsi il fascicolo? Non ha quella scadenza e ne avrà un'altra e quindi restituirà ai processi della loro importanza una calendarizzazione coerente con i processi e non con la prescrizione. Ne guadagnerà la ragionevoletta del sistema. Questa questione che i magistrati che non hanno più il pungolo delle prescrizioni e da domani si dimenticano i processi, se ne vanno tranquillamente non faranno i processi e uno rimane imputato per sempre è, scusatemi, una caricatura del processo. Non può essere, perché ognuno di noi oltre alle varie ragioni ha anche una deontologia, gli obblighi disciplinari e la consapevolezza che non hanno solo gli avvocati, che dentro i processi ci sono le vite delle persone, cose della quale non si fanno carico solo i difensori, ma mi creda anche i pubblici ministeri e anche i giudici. Quindi se si dice che questa questione può provocare uno slittamento di alcune aspettative di definizione, è vero e lavoriamo a recuperare una giusta dimensione delle fasi successive. Alla tedesca per esempio, non con una prescrizione dell'azione, ma con una premialità in relazione ad un tempo trascorso, come dire, superiore a quello che si aspetta l'imputato. Quindi abbiamo un po' di idee che naturalmente è difficile declinare in così poco tempo in una risposta così contenuta. Se vi saranno delle altre occasioni avremo piacere di interloquire con voi. Per le altre questioni, se vuole interloquire, se mi consentite di fare interloquire il collega, rispondere a lui. Grazie. Vi ringrazio per l'invito, anche perché è interessante anche capire il punto di vista dei lavori parlamentari su queste ipotesi. Perché c'è una giusta preoccupazione, ma ho l'impressione, non per semplificare troppo le cose, che qui ci si trovi oggi di fronte a un'opzione di principio, che è quella contenuta nella legge 3 del 2019. Cioè se riteniamo che il nostro ordinamento debba allinearsi agli altri ordinamenti oppure no. Quindi se in principio riteniamo che sia giusto nei confronti del sistema giudiziario del suo complesso, per le risorse che sono investite, per la risposta di giustizia accettare quel tasso di prescrizione nel nostro ordinamento e lasciare invariata una normativa che negli anni, facciamo attenzione, è stata oggetto di diversi interventi tendenti ad abbreviare il termine di prescrizione nel nostro ordinamento oppure se non sia giusto. In linea di principio l'intervento ha questo senso ed è in questo senso che l'Associazione Nazionale Magistrate ha sempre sostenuto un intervento di questa natura. È chiaro, ma anche la magistratura associata si è posta il problema. È stata evocata un'emergenza rispetto all'entrata in vigore di questa riforma. L'emergenza è attuale, l'emergenza è di oggi ma è degli ultimi anni, è del nostro sistema processuale. Allora ritengo che di quello sia necessario continuare a discutere. Peraltro, come ha ben ricordato il Presidente Pons, è iniziato un confronto anche fruttuoso con gli Avvocati e col Ministro rispetto all'ipotesi di riforma. Abbiamo l'impressione che tutto quel percorso che va fatto, ma in ogni caso fatto, perché una cosa sono i tempi del processo rispetto ai quali c'è una visione, ci sono anche diversi punti in incontro con l'Avvocatura, bisogna continuare a lavorare su quello. Ma oggi mi sembra che rispetto a queste ipotesi si trovi di fronte alla scelta se introdurre un principio allinando il nostro ordinamento agli altri oppure se pensare che sia giusto che in Italia si prescriva quel numero consistente di processi, soprattutto in appello. La discussione è chiaramente fatta su previsioni, su prognosi, sull'idea di quello che potrebbe accadere nel nostro ordinamento. Ha detto bene il Presidente Poniz, diciamo che per noi è difficilmente accettabile l'idea che i magistrati in corte d'appello pospongano i processi. Tra l'altro c'è una norma del nostro ordinamento, il 132 bis, che prevede una trattazione prioritaria per determinati processi, per cui chi avrà la sventura di essere arrestato il 1 gennaio 2020 avrà un processo che sarà trattato prioritariamente, ma perché è una priorità stabilita dalla legge, dal nostro codice. Ci ritorniamo di fronte alle previsioni. Allora, i dati statistici possono essere analizzati in tanti modi. La nostra previsione è sempre stata nel senso che questo tipo di intervento, oltre ad essere giusto in linea di principio, perché, lo ripeto, ci allineano gli altri ordinamenti, potrà avere effetti positivi sulla durata complessiva del processo anche nelle fasi successive. Resta, e di questo mi sembra che si sia parlato anche negli interventi di oggi, la situazione della durata del processo in primo grado. Su quello bisognerà continuare a lavorare, ma noi riteniamo, ed è questa la nostra posizione, che l'intervento giusto in linea di principio non avrà ricadute negative, sicuramente non immediate, ma neanche in prospettiva, se ci sarà la volontà di intervenire. I settori di intervento sono chiari, il Presidente Poniz lo ha ricordato. Ad esempio, gli Avvocati sono d'accordo con i magistrati sulla necessità di potenziare i riti alternativi. C'era una parte degli interventi che era del tutto sparita da quel testo che era stato approvato salvo intese a luglio, c'è scritto nella relazione. Quindi da luglio abbiamo una base di partenza, sulla quale qualche integrazione sui riti alternativi o su quella proposta di depenalizzazione condizionata, che pur era stata avanzata concordemente, potrebbe contribuire ulteriormente ad eliminare le preoccupazioni che oggi sono emerse e che noi riteniamo che però non siano fondate. La nostra previsione, la nostra prognosi, è quella che questo tipo di intervento sarà un fattore positivo nel nostro sistema processuale. Grazie Dottor Caputo, grazie Dottor Poniz per il... Abbiamo consegnato una relazione. Ah, ecco, molto bene. Quindi acquisiamo la vostra relazione che sarà ovviamente messa poi in distribuzione. Ringraziamo per il vostro prezioso contributo e noi proseguiamo nei lavori delle ulteriori edizioni. Grazie Presidente. Grazie a tutti. 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 Benissimo, prendo atto quindi che non vi sono obiezioni e resa disponibili ai deputati attraverso l'applicazione geocamera. Do quindi adesso la parola al Dottor Pier Giorgio Morosini, giudice per indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo. Buongiorno a lei. Grazie Presidente, buonasera a tutti i componenti della Commissione, intervento quindi telegrafico. Io vorrei dire, vorrei dire, vorrei fare qualche battuta sul cosa condividono le riforme del 2017 e la riforma del 2019 in materia di prescrizione, perché noi qua siamo a discutere un disegno di legge che ha una finalità abrogativa rispetto a un testo del 2019 e se dovesse realizzare il suo intento questa legge riporterebbe in vita la legge del 2017. Cosa condividono, dicevo, le riforme 2017 e 2019? Già nella scorsa legislatura si era avvertita in maniera forte l'esigenza di evitare che processi di forte impatto civico e sociale, in materia, ad esempio, ambientale, in materia di frode fiscali, in materia di omicidi per colpa medica, potessero concludersi con un nulla di fatto dopo una sentenza di primo grado. Per far fronte a questa situazione, già la legge numero 103 del 2017 aveva cercato un più ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di accertamento dei fatti e delle responsabilità e di tutela delle vittime e la tutela del diritto dell'imputato alla durata ragionevole del processo. Si era quindi posta meritoriamente l'obiettivo di ridurre le declaratorie di prescrizione nei gradi di impugnazione. Ricordo, ma è un dato ormai assolutamente notorio, che il 25% dei processi si prescrivono, hanno come impatto in corte d'appello, appunto, la declaratoria di prescrizione. La soluzione adottata dalla riforma del 2017 muoveva da un'idea di fondo, poi condivisa anche dalla riforma del 2019, che è la seguente, ossia che occorre distinguere tra prescrizione sostanziale, che esaurirebbe la sua funzione con la concreta manifestazione della pretesa punitiva entro i termini di legge, e i rimedi processuali per garantire comunque all'imputato tempi processuali ragionevoli. La riforma del 2017 fissava la concreta manifestazione della pretesa punitiva con la sentenza di condanna in primo grado. La riforma del 2019, invece, fissa quel presupposto tenendo conto non solo della sentenza di condanna di primo grado, ma anche della sentenza di assoluzione. Era, a mio sommesso avviso, ragionevole questo tipo di soluzione, perché noi sappiamo che il primo grado di giudizio è il luogo privilegiato di formazione della prova in contraddittorio, fatti salvi naturalmente i riti alternativi, che però sono nella piena disponibilità dell'imputato. E quindi, come sostenuto anche da eminenti studiosi, una volta che si arriva ad un passaggio così pregnante del processo, come addirittura l'accertamento in un giudizio di primo grado, dove la prova si forma nel contraddittorio tra le parti, non c'è più ragione di applicare le conseguenze dell'idea del tempo dell'oblio. E quindi perderebbe di giustificazione l'applicazione del regime della prescrizione. Che noi sappiamo, e questo ce lo ricorda anche la relazione di accompagnamento a questo disegno di legge, è finalizzata ovviamente a evidenziare come, se c'è una lontananza di tempi tra la commissione del reato e la decisione, si affievoliscono, la decisione definitiva, si affievoliscono le ragioni della pena e si va a ledere il diritto di difendersi provando da parte dell'imputato. Ma, appunto, anche eminenti studiosi dicevano che, quando si è arrivati alle decisioni di primo grado, queste considerazioni perdono il loro valore. Resta il problema, naturalmente, di garantire la durata ragionevole dei giudizi di impugnazione. Allora, c'è una divaricazione tra la riforma del 2017 e la riforma del 2019 proprio su questi rimedi processuali. Mentre c'è un'idea di fondo sulla prescrizione sostanziale che è più o meno condivisa con la distinzione che la riforma del 2019 prevede lo stesso regime anche per l'assolto in primo grado, ma, di fondo, la decisione di primo grado, se di condanna, viene condivisa dalle due riforme. C'è la divaricazione sui rimedi processuali, cioè sul come garantire la durata ragionevole dei giudizi di impugnazione, in particolare del giudizio d'appello, che è quello su cui c'è il maggiore impatto delle declaratorie di prescrizione a giudizio in corso. Allora, la riforma del 2017 viene a contingentare i tempi del giudizio in appello e in cassazione e alla scadenza di quei termini si estingue il reato. Quindi, in sostanza, si fabbrica una nuova forma di prescrizione, questa volta di natura processuale. Punto critico. Le sorti dell'imputato, ancora una volta, sono sganciate dalla prova della sua eventuale responsabilità e si finisce per farle dipendere dalla estrema variabilità di ogni singola vicenda processuale. Cioè, per un medesimo fatto, dopo la sentenza di condanna di primo grado, la sorte degli imputati dipende dalle caratteristiche di quella vicenda processuale. Ad esempio, l'alto numero o il basso numero dei coimputati. Ad esempio, l'espletamento necessario di una perizia complessa, che può durare del tempo. Così come le condizioni di quella particolare corte d'appello in cui si celebra il giudizio di appello. Anche questo, penso, sia un dato notorio. Avrete i dati del Ministero. Ci sono cinque corti d'appello in questo momento in Italia, che sono in grande sofferenza. Che sono Napoli, Roma, Catania, Venezia e Torino. E sappiamo che su quelle cinque corti d'appello si concentrano le declaratorie di prescrizione, che poi vanno a comporre quella percentuale molto alta, in quella fase del processo. Ma, dicevo, la riforma del 2017, di cui vorrebbe ripristino questo disegno di legge che stiamo discutendo oggi, mantiene concreta la prospettiva di sfuggire da una responsabilità penale a seguito del trascorrere del tempo. Il che significa, con un assetto ovviamente che lo consente, che legittimamente si può fare dell'ostruzionismo, si possono moltiplicare le manovre dilatorie, in questo modo aggravando anche ulteriormente il lavoro dei magistrati. Va detto anche che proprio questo meccanismo è un disincentivo comunque all'adozione dei riti alternativi, perché, appunto, si può sempre sperare nel decorso del tempo. Per questo mi appare più convincente il modello di soluzione della riforma del 2019, pur con delle considerazioni che di qui ad un istante andrò a fare. Può essere un rimedio isolato? Non può essere un rimedio isolato la riforma del 2019, vista anche la condizione di sofferenza di alcune corti d'appello, come dicevo. Alcuni ritengono che già in sé questa riforma possa produrre degli effetti deflattivi, perché sarebbe un disincentivo alle manovre dilatorie e sarebbe invece un incentivo ai riti alternativi. Ma questa è una valutazione, come dire, prognostica. Il punto è che c'è del tempo per fare degli interventi mirati, cioè per individuare quei rimedi processuali che possono garantire la ragionevole durata del giudizio d'appello. In questo senso, io credo siano apprezzabili le indicazioni che noi possiamo ricavare dal disegno di legge delega, che è stato discusso in un Consiglio dei Ministri a fine luglio, perché lì sono contenute non solo delle norme di sistema per l'abbattimento dei tempi processuali. Penso ad esempio ai casi di ampliamento delle ipotesi di procedibilità querela, penso al potenziamento dei riti alternativi, ai filtri in udienza preliminare e anche a una nuova disciplina delle notificazioni. Ma lì ci sono norme specifiche sul punto critico, che sono i giudizi di impugnazione. Infatti c'è un ampliamento dei casi di inappellabilità del pubblico ministero e delle parti private, c'è la previsione della composizione monocratica della Corte per i reati di minore gravità e c'è anche l'estensione del rito camerale non partecipato sul modello della Cassazione. Sono tutte misure, a ben vedere, che cercano di valorizzare e di capitalizzare determinate risorse che poi possono essere utilizzate per uno svolgimento più rapido dei processi. Sono rimedi utili a restringere i tempi processuali. Ma volevo dire un'ultima cosa, poi concludo perché forse rischio di farla troppo lunga. Ci sono però due punti critici della riforma del 2019 che io voglio segnalare con chiarezza immediatamente in questa sede. Il primo, l'equiparazione del regime di prescrizione dopo la sentenza di primo grado tra assolto e condannato. La soluzione in primo grado non è solo la conferma della presunzione di innocenza, è qualcosa di più. È una smentita dell'ipotesi accusatoria nel giudizio di primo grado che abbiamo detto essere il luogo privilegiato di formazione della prova. Alcuni effetti pregiudizievoli per l'imputato con la sentenza di assoluzione di primo grado si cancellano automaticamente già nel nostro codice. Pensate all'articolo 300 sulle misure cautelari che cadano automaticamente in presenza della sentenza di assoluzione. Ma restano però anche in caso di impugnazione del pubblico ministero, dopo la sentenza di assoluzione, degli effetti comunque si dice incapacitativi, cioè delle sorte di penalizzazioni comunque esterne al processo per l'imputato. Penso ad esempio alla partecipazione ai concorsi, all'assunzione sui posti di lavoro. È per questo che a mio avviso sarebbe più ragionevole in presenza di una sentenza di assoluzione in primo grado non solo prevedere una norma con una corsia preferenziale per la trattazione di eventuali impugnazioni, ma dovrebbe continuare a decorrere la prescrizione sostanziale. In questo, per questa parte, trovo che sia ragionevole la soluzione adottata nella legge numero 103 del 2017. Altro punto critico che voglio segnalare dal mio punto di vista. Questo ha proprio molto a che fare con il mio lavoro quotidiano di giudice delle indagini preliminari. La riforma del 2019 prevede l'equiparazione tra decreto penale di condanna e sentenza di primo grado. Allora, il decreto penale di condanna produce i suoi effetti solo se non viene validamente opposto, in un termine molto rapido. Ma se c'è la presentazione dell'opposizione, che poi è l'unica situazione in cui l'effetto estintivo della prescrizione viene in rilievo sulla base di questa novità del 2019, se c'è la presentazione dell'opposizione, si instaura un giudizio normale, ordinario, se non c'è richiesta diritto alternativo. E il decreto, comunque, se c'è opposizione, il decreto penale di condanna perde comunque qualsiasi forma di effetto e viene trattato dal nostro codice come inesistente. Cioè, a seguito dell'opposizione al decreto penale di condanna, è il giudice a quel punto che instaura eventualmente il giudizio immediato, se non ci sono richieste diritti alternativi, e comunque si deve revocare il decreto penale di condanna. Il codice lo tratta come inesistente, quindi è irragionevole prevedere che il decreto penale di condanna opposto finisca per consumare il tema della prescrizione sostanziale, lasciando, appunto, sine di aperta la partita dei tempi processuali. Un'ultima telegrafica considerazione ho veramente finito, non voglio abusare della vostra pazienza. Io credo che, in realtà, qui non si discute con questo disegno di legge solo di prescrizione, si discute in realtà molto di efficienza della giustizia, di tempi ragionevoli, quindi di efficienza della giustizia. E allora qui c'è l'esigenza di un impegno congiunto tra diversi attori istituzionali. Ovviamente voi state facendo la vostra parte come Parlamento, continuamente, pensando a norme, approvandole, elaborandole, ma questa è una situazione da cui non si esce se non c'è un impegno congiunto di diversi attori istituzionali che dovrebbero davvero essere uniti da una sorta di alleanza per la giustizia. Mi spiego meglio. Se ci sono cinque corti di appello in questo momento in Italia, in cui si concentra la massima percentuale delle declaratorie di prescrizione in appello, beh, lì ci vorrebbero interventi mirati e ovviamente allocazione di risorse da parte del Ministero della Giustizia. Ma non basta questo. Un compito importante ce l'ha la magistratura, ce l'abbiamo noi. L'adozione di criteri organizzativi, interventi drastici su coloro i quali non rispettano determinati doveri organizzativi o hanno comportamenti negligenti e anche l'avvocatura dovrebbe essere disposta ad un dialogo anche sull'efficienza del processo. Una proposta probabilmente già è emersa nei vostri confronti. Ci rendiamo conto di quello che è in questo momento l'impatto del gratuito patrocinio sul nostro sistema. La difesa ai non abbienti deve essere assolutamente garantita e pienamente. Ma noi abbiamo in questo momento un sistema di previsione dei compensi che è parametrato ad ogni singolo atto che il difensore con il gratuito patrocinio pone in essere. Questo tipo di disciplina per il compenso ai difensori per il gratuito patrocinio fa da effetto moltiplicatore alle istanze, molte delle quali assolutamente pretestuose, anche per lucrare il compenso dello Stato. Io voglio solo darvi un dato, non so se lo conoscete, ma pensate che solo il distretto della Corte di Appello di Palermo nell'ultimo anno ha speso per il gratuito patrocinio in sede penale la cifra di 26 milioni di euro in un anno. È un trend che va crescendo, negli ultimi anni è sempre andato crescendo, nel 2015 era di 14 milioni di euro, adesso è attorno ai 26 milioni di euro, solo il distretto della Corte d'Appello di Palermo. Questo significa che forse andrebbe ripensato il meccanismo del gratuito patrocinio anche in un'ottica di efficienza del processo. E questo come? Prevedendo ad esempio soluzioni tipo quella che hanno adottato in certi sistemi nordamericani negli Stati Uniti, ci sono dei difensori preposti al gratuito patrocinio che vengono stipendiati dallo Stato. E possono essere a rotazione, possono essere in ruoli fissi, ma tutto questo comporta che il difensore non trae il suo compenso dal singolo atto, ma dall'incarico complessivamente assunto con la sua difesa. Ecco, io mi fermo qui perché non voglio sottrarvi tempo. Grazie dottore Pier Giorgio Morosini per la sua relazione. Chiedo se vi sono dei deputati che vogliono porre delle domande. Onorevole Ferri Sì, intanto ringrazio il dottore Morosini che come sempre è chiaro e brillante. E lui ha sottolineato due volte un aspetto che è quello del dibattimento di primo grado e dicendo che è il momento privilegiato di formazione della prova. Quindi le due volte condivido, però non collego poi appunto proprio perché è il momento privilegiato della prova e poi rimane sia in caso di assoluzione che in caso di condanna la riforma del 2019. Lui è partito dalla riforma Orlando, quella su cui abbiamo lavorato, che è la 103 2017. Giustamente ha detto che era stato raggiunto un punto d'equilibrio perché si cercava di raggiungere proprio un punto d'equilibrio tra l'esigenza e la necessità di dare una risposta e quindi di non far lavorare a vuoto la macchina della giustizia e quindi di un equilibrio tra la ragionevole durata del processo e però la necessità appunto di dare della risposta di non far lavorare a vuoto la macchina della giustizia e quindi di non far prescrivere i reati. Però se si dice che appunto il luogo privilegiato della prova è il dibattimento, come anch'io penso, però poi c'è un contrasto, ora io qui non ho il dato, forse il collega Costa conosce, anche il dato, però di tante riforme in appello delle sentenze di primo grado perché lui prima segnalava allora questo mi preoccupa un po' perché sospendere, allora secondo me io condivido tutti quei rimedi perché alla fine mi sembra di aver capito la riforma del 2019 va bene ma solo così non va bene e ci sono tutta una serie di soluzioni che io condivido e che il dottor Morosini meglio di me e non ripeto ha sottolineato. Allora io dico tutti questi correttivi che sono stati indicati accompagnati dalla riforma Orlando alla 103 del 2017 mi sembrano che possano essere sufficienti per raggiungere quel risultato che è quello di fare i processi e di non lasciare a vuoto perché il tema, se me lo confermano, io però lo devo riverificare, del 48% delle assoluzioni, delle riforme, sì sì, vabbè, della riforma sia in un senso che in un altro sono importanti. Allora mi preoccupa tra l'altro con la riforma Orlando, come sa meglio di me il dottor Morosini, per quanto riguarda le assoluzioni e le prove dichiarative abbiamo modificato alla luce della Corte Europea di Delitti dell'Uomo anche il 602 del Codice di Procedura Penale, quindi oggi quando c'è una sentenza di assoluzione con la riforma Orlando, con il 602, sulle prove dichiarative è obbligatoria anche la rinnovazione degli atti. Allora, su questo, onorevole Ferri, su questo io infatti ho precisato che non ritengo equiparabile la sentenza di assoluzione alla sentenza di condanna e a mio avviso nel caso della sentenza di assoluzione ci vorrebbe con una norma specifica una corsia preferenziale per quel tipo di giudizi e dovrebbe continuare a decorrere la prescrizione sostanziale per gli assolti. Il 48% credo che si ripartisca tra assoluzione e condanna. Io trovo, però vi inviterei, chiedo scusa Presidente, era per confrontarsi, forse c'era l'onorevole Costa che voleva aggiungere qualcosa, non so. La presa televisiva, diamo ordine agli interventi mondiali che poi altrimenti non si riesce a capire. La mia domanda è, questi correttivi che ha indicati, uniti, che io condivido, può essere una soluzione quella di procedere in maniera veloce con questi correttivi, unirli alla legge 103 2017, verificare tra qualche anno con un monitoraggio se ancora il numero delle prescrizioni fosse così alto, perché l'obiettivo è azzerarle, perché è chiaro che l'obiettivo è azzerarle, senza andare a incidere su una modifica di un istituto che comunque crea delle perplessità ed è stato criticato anche da molti giuristi, sia dall'Accademia ma anche da diversi magistrati. Quindi questo è il tema, è la domanda. Prima onorevole Giuliano. Grazie Presidente, ringrazio il Dottor Borosini per la sua relazione. Gli volevo porre una domanda piuttosto secca. Volevo chiederle, visto che lei parlava di una differenziazione tra sentenza di assoluzione e sentenza di condanna, se non ritiene che questa differenziazione possa invece contrastare con il disposto dell'articolo 27 della Costituzione e soprattutto se invece questa differenziazione non possa poi creare uno squilibrio, una distonia di poteri tra le parti anche in considerazione proprio del meccanismo previsto dal 603,3 bis del codice di procedura penale sulla rinnovazione nel caso di impugnazione da parte del PM di una sentenza di proscioglimento. Grazie. Onorevole Costa. Semplicemente, lei ha fatto riferimento alla riforma del 2017 sulla prescrizione. Io le aggiungo anche sui temi della pubblica amministrazione, altri allungamenti indiretti della prescrizione attraverso l'aumento delle pene, attraverso l'aumento dopo l'interruzione alla metanziche un quarto. Quindi, le chiedo, non sarebbe più opportuno, visto che, come sostiene il Ministro Bonafede, gli effetti di una riforma si vedono dopo alcuni anni, una riforma che interviene post-sentenza di primo grado, si vedono dopo alcuni anni, non sarebbe più opportuno attendere gli effetti della precedente riforma, comunque un anno e sei mesi, se invece non ritiene che cancellando quella riforma di fatto si cancellino anche o si abbattano le fondamenta di questa nuova riforma, perché se non si ritiene sufficiente una riforma che sospende per un anno e mezzo dopo il primo grado, è evidente che la soluzione deve essere diversa, non deve essere una soluzione analoga a quella estremizzata andando a cancellare la prescrizione dopo il primo grado. Non so se mi sono spiegato, perché se un anno e sei mesi non servono a smaltire di fatto una serie di prescrizioni, cioè evitare una serie di prescrizioni, significa che quei fascicoli anziché essere trattati prioritariamente o con un tempo ordinario, vengono posposti al termine di quell'anno e sei mesi. Quindi se non è efficace una riforma, probabilmente effettivamente questa diventa una riforma che allunga effettivamente i processi, perché lo schermo è lo stesso. Onorevole Bazzoli. Sì, io mi scuso col dottor Morosini, non ho ascoltato la prima parte della sua relazione, magari ha risposto in parte alla domanda che faccio, però la faccio e vediamo casomai se invece deve integrare. Allora, io condivido peraltro una considerazione che hanno fatto tutti gli auditi, cioè che è necessario accompagnare questa riforma con una riforma adeguata del processo che ne snellisca e riduca i tempi. Ma, diciamo, rebus sextantibus. Una riforma come quella, diciamo, della prescrizione che stiamo oggi discutendo. Non può innescare un meccanismo perverso che è questo. Noi sappiamo che oggi la prescrizione, pur essendo un istituto di diritto sostanziale, come dice la Corte Costituzionale, concorre alla ragionevole durata del processo, perché è un fattore acceleratorio in qualche modo di cui i giudici devono tenere conto. E come funziona questo fattore acceleratorio? Che un reato che si prescrive in sette anni e mezzo, i giudici sanno che devono mettere in conto il processo di primo grado, il processo di appello e il processo di cassazione che devono concludersi entro sette anni e mezzo, altrimenti arriverà la prescrizione. Se interrompiamo la prescrizione definitivamente dopo il primo grado, non può innescarsi un perverso meccanismo in forza del quale da oggi in poi i sette anni e mezzo possono essere consumati integralmente entro il processo di primo grado. Cioè sia le indagini preliminari sia il processo di primo grado si allungano necessariamente perché il termine vero su cui calcolare il rischio di prescrizione è esattamente la barriera del processo di primo grado. Per cui il rebus ex antibus senza una riforma complessiva del processo potrebbe innescarsi questo meccanismo perverso per cui i sette anni e mezzo di prescrizione che oggi devono spalmarsi sui regali di giudizio possono essere spalmati fino al primo grado di giudizio e quindi può durare tranquillamente fino a sette anni un procedimento fino al primo grado di giudizio perché tanto poi arriva la mannaia che interrompe la prescrizione. Non può esserci questo meccanismo perverso diciamo dentro un contesto che non sia profondamente modificato. Ci sono altri colleghi che vogliono porre delle domande? No? Allora dottor Marosine. Parto proprio dall'ultimo intervento cioè di questo meccanismo perverso. Onorevole Bazzoli il rubicone è già stato varcato con la riforma del 2017 sotto questo profilo. La riforma del 2017 ci ha detto che la prescrizione sostanziale non si computa più dopo la sentenza di primo grado. Dopo la sentenza di primo grado c'è la sospensione per un anno e mezzo un anno e mezzo. Quindi se effetto perverso ci deve essere già ci sarebbe con la riforma Orlando. Ma io ritengo che sia la riforma Orlando che la riforma del 2019 siano positive nella loro idea di fondo di prevedere lo spartiacque della sentenza di primo grado e poi prevedere rimedi processuali abbiamo visto diversi. E qui vengo a quelle che sono state le considerazioni degli onorevoli Ferri e Costa in particolare. Perché a mio avviso è preferibile l'opzione di fondo della riforma del 2019? Ci sono due aspetti fondamentali. Il primo, ripeto, è legato all'applicazione del principio di eguaglianza. Cioè che diversi imputati sul medesimo fatto debbano avere un destino processuale che è completamente sganciato dalla prova delle loro responsabilità ma è affidato alla variabilità della singola vicenda processuale che può avere appunto che può avere mille sbocchi in ragione di differenti cause e lo abbiamo detto è un qualcosa che a mio avviso è in contrasto anche con l'assetto degli interessi che dovrebbero essere tutelati dalla giustizia. C'è poi il fatto che lasciando comunque dei tempi contingentati c'è sempre chi può essere portato legittimamente sulla base delle norme attualmente vigenti a utilizzare ogni mezzo per allungare i tempi del processo. Quindi l'idea di fondo della riforma del 2019 è un'idea secondo me condivisibile ma ripeto è un'idea che poi viene implementata su un ragionamento di fondo che era già stato fatto anche nella scorsa legislatura e che è alla base della riforma del 2017. Anche la riforma del 2017 ancora in realtà non sta producendo gli effetti cioè siamo in attesa perché noi gli effetti della riforma del 2017 se non andassi in vigore la riforma del 2019 li vedremo tra tre anni fondamentalmente 4 più 1 con la prorogata che sono le prescrizioni più basse, temporalmente più contenute. Quindi dicevo l'opzione per la riforma del 2019 è vincolata soprattutto a questo tipo di ragionamento, il trattamento uguale a cui poi ovviamente si agganciano altre considerazioni che sono state fatte negli ultimi anni. Noi lo abbiamo detto anche fin dalla scorsa legislatura e il dibattito era stato molto forte su questo tema perché soprattutto dopo clamorose vicende di dichiarazioni di prescrizioni in sede di appello o in cassazione addirittura c'era stata una presa di posizione e una sensibilizzazione anche del mondo parlamentare per trovare delle soluzioni. Cioè tutti convenivano sul fatto che l'istituzione giudiziaria non si poteva presentare in questo modo anche all'opinione pubblica cioè con delle vicende molto sofferte anche dal punto di vista processuale che si concludevano in un nulla di fatto dopo sentenze di primo grado, dopo accertamenti particolarmente complessi. E questo l'abbiamo visto sui reati ambientali ma ci sono tante vicende che passano sotto silenzio ma che sono molto importanti che riguardano ad esempio le frodi fiscali. Dicevo prima omicidi per colpa medica. Ecco, sulla base di tutte queste esigenze si è cercato un punto di equilibrio tra questi diversi interessi. Io ritengo che la riforma del 2019 sia sotto questo profilo il tentativo di trovare un equilibrio ancora più avanzato di quello del 2017. L'onorevole Giuliano faceva riferimento al tema della compatibilità mi sembra con l'articolo 27 della Costituzione. Immagino che si riferisca alla circostanza che se la decisione arriva in un tempo o lontano dalla Commissione del fatto si affievoliscono le ragioni della pena. Ha citato l'articolo 27 quindi penso che riguardi il tema della pena fondamentalmente. In realtà intendevo, se posso... Prego, prego. Ah, ma scusa. Volevo sapere da lei se creare una differenziazione, dal mio punto di vista potrebbe avere degli effetti negativi sull'articolo 27 per cui in realtà... Tra assolto e condannato. Tra assolto e condannato. È vero che... Io questa cosa, questo pericolo sinceramente non lo vedo perché parto dal ragionamento però che l'assolto, per l'assolto non ci deve essere lo statuto della prescrizione previsto dalla riforma del 2019. Cioè per l'assolto deve rimanere lo stesso regime. No, no, mi è chiara la sua posizione. E se il PM fa l'impugnazione chiede ovviamente le prove perché... Mi è chiara... No, sto parlando... Stiamo parlando della assoluzione, onorevole Costa. Mi è chiara... Sì! E ma non è che è un po' più colpevole? Però l'onorevole Costa, lei... Non è un dibattito pubblico. No! Onorevole Costa, sono d'accordo con lei ma lei sta proponendo un disegno di legge, di abrogazione della legge del 2019 che fa rientrare in vigore la legge del 2017 che prevede la prescrizione processuale dopo la sentenza di primo grado. Sta proponendo questo. Però mi scusi... Non è un dibattito... Ma non è un dibattito... Però venga conto che il male è minore rispetto all'abrogazione totale, quello per me lo è. Però, onorevole Costa, onorevole, onorevole... Un conto è un'eternità. Sì, però onorevole... Un'eternità questa è una valutazione che si fa perché se ci sono rimedi processuali, nella fase successiva non c'è l'eternità. C'è una sentenza in tempi ragionevoli. Abbiate pazienza, però scusate un secondo. Mettiamo un po' d'ordine, io capisco che l'argomento è un argomento che appassiona gli auditi, appassiona anche la Commissione, quindi è una ragione in più per la quale abbiamo fatto bene a disporre le audizioni. Quindi cogliamo questa opportunità non come un motivo di scontro, ma come un motivo di arricchimento generale e complessivo, del quale dobbiamo ringraziare gli auditi che ci dedicano il loro tempo e ci forniscono utili e preziosi argomenti per poter approfondire il testo di legge al nostro esame. Ci sono delle domande, ogni collega può fare delle domande, ne ha fatto una l'On. Giuliano che è stata chiamata a dare una precisazione del tipo di domanda, la lasciamo fare, poi avranno tempo altri colleghi di farlo, però poi lasciamo rispondere l'audito che ha la libertà di esprimere come ritiene la propria posizione e anche svilupparla. Teniamo conto che uno cerca di sviluppare un ragionamento in un tempo abbastanza breve, quindi dobbiamo... Infatti, Presidente, tra l'altro c'è il testo scritto anche su cui, ecco, proprio sul tema della presunzione d'innocenza, proprio per rispondere all'On. Costa che ovviamente ha tenuto a precisare il suo punto di vista, ma io sulla presunzione d'innocenza la vedo assolutamente come lei, non abbiamo distinzioni su questo. Io ho detto prima che è un fuoriluogo equiparare la sentenza di condanna alla sentenza di risoluzione perché la sentenza di risoluzione è un qualcosa di più della presunzione d'innocenza, è un qualcosa ancora di più e su questo vale la mia considerazione. Io rispetto il punto di vista, ma io non ho detto che non c'è la presunzione d'innocenza dopo la sentenza di primo grado, me ne guarderei bene, insomma. Ecco, cercando di rispondere all'On. Giuliano, io credo che non ci sia questa difficoltà, nel senso che ravvisava lei di contrasto con l'articolo 27, soprattutto nel caso in cui ci sia un giudizio di assoluzione in primo grado. Perché, ripeto, a mio avviso l'imputato assolto deve essere messo nelle condizioni di liberarsi dal processo ancora prima sotto certi profili, perché ha degli effetti negativi per la sua vita di cui bisogna tenere conto. È chiaro, il processo è tutto un sistema di pesi e di contrapesi e di bilanciamenti. E vorrei anche dire che, naturalmente, io faccio queste considerazioni, ma non sento di avere soluzioni miracolistiche rispetto all'enorme tema dei tempi della giustizia in Italia, che dovrebbe essere il cuore, in realtà, di questo confronto. Perché, ripeto, ormai è stata accettata l'idea che di prescrizione si parla sino ad un certo punto. Il resto sono rimedi per far andare in fretta il processo, per rendere breve il processo, per chiudere prima possibile la vicenda processuale. Questa è l'impostazione di fondo di tutti questi impianti normativi, di cui si è discusso negli ultimi anni, non si è discusso solo nella scorsa legislatura, della prescrizione processuale, cioè è almeno dalla metà degli anni 90 che si sta discutendo di queste cose, che c'è un confronto su questi temi. Io credo che se accettiamo un'idea di fondo, come è stata condivisa, ripeto, dalle due riforme, cioè quella che con la sentenza di primo grado cade l'idea del tempo dell'oblio, tutto il resto è ragionare su rimedi processuali efficaci per accorciare i tempi. E ci sono molte norme che, se mi è consentito in questa sede, non hanno assolutamente alcun risvolto ideologico per essere approvate. Sono convinto, ad esempio, che in materia di semplificazione delle notificazioni, che appesantiscono moltissimo il nostro processo, esistono in questo Parlamento disegni di legge di diverso colore politico che sono su quei punti perfettamente sovrapponibili, eppure non si riescono ad approvare. E sarebbe importantissimo approvarli. Il caso, ad esempio, la proposta, ad esempio, delle inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per, non solo per le contravvenzioni, ma anche per i delitti che sono puniti solo con pena pecuniaria o con pena alternativa, pecuniaria e detentiva. È una delle proposte inserite in quel disegno di legge delega che è stato evocato poco fa. Quella è una misura importante e abbatte notevolmente i carichi assieme, ad esempio, al recupero di risorse col giudice monocratico in appello per i processi di minore gravità. Ma queste sono misure che consentono di risparmiare tantissimo e di utilizzare certe risorse per rendere più brevi i processi che hanno bisogno di essere celermente definiti. Questa è l'ottica delle mie considerazioni. Poi, naturalmente, sui principi di fondo ci si può confrontare, ma questi sono temi molto pratici. Grazie, Dottore, per il suo intervento. Ovviamente ne faremo tesoro. Ci ha lasciato la relazione, sarà acquisita agli atti. La ringraziamo del tempo che ci ha dedicato. Grazie a lei, Dottore. E la salutiamo. Grazie, buonasera, buon lavoro a tutti. Facciamo entrare l'ultimo udito? Grazie. 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 Buongiorno, proseguiamo. L'ordine del giorno recca l'audizione informale nell'ambito del disegno della proposta di legge Costa 2059 in materia di prescrizione del reatto del professor Vincenzo Maiello, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Avverto in via preliminare che, secondo il parere della Giunta per il regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati e col consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione del nostro ospite su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte sua non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo all'attivazione dell'impianto. Pregherei il nostro ospite di contenere il proprio intervento nei canonici 10 minuti per dare modo ai deputati di porre delle domande, qui seguirà la replica dell'audito e che potrà consegnare alla Secretaria, ove ritenuto della Commissione, un documento scritto a farlo per venire anche successivamente. La documentazione in assenza di obiezioni sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera. Quindi do la parola al Professor Vincenzo Maiello. Grazie Presidente, grazie dell'invito che considero sempre un motivo di onore e di privilegio. Parlare al legislatore e per il giurista è sempre un'occasione di saltazione intellettuale. La mia è una posizione nettamente contraria alla legge che si appresta ad entrare in vigore. La mia contrarietà nasce da considerazioni costituzionali, di legalità costituzionale e dalle perplessità che discendono dal metodo seguito. Le ragioni di contrarietà costituzionale chiamano in causa principi importanti della Carta. Innanzitutto in via diretta e immediata e direi di primo acchitto il principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 che è affidata ad un enunciato dalla portata assertiva inequivocabile la legge assicura la ragionevole durata del processo. In questo caso io direi la legge spalanca la strada e legittima l'irragionevole durata del processo. L'altro principio è un principio che riguarda più strettamente le mie competenze disciplinari. Io insegno e mi occupo di diritto penale e direi il principio che più mi ha appassionato sin da quando ho scelto di occuparmi di questa materia è quello nel quale si materializza l'anima, l'impronta, la struttura personalistica dello Stato costituzionale, il principio di solidarietà. Il principio di solidarietà applicata al diritto penale ha generato il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Che cos'è la rieducazione del condannato se non l'offerta di aiuto che lo Stato elargisce nei confronti di chi ha sbagliato, di chi non è riuscito a trattenere una pulsione antilegalitaria e che dal baratro in cui è precipitato vuole una mano per risalire la china e riportarsi nel circuito del consorzio civile. Ecco, il principio della rieducazione del condannato sarebbe pesantemente mortificato dall'entrata in vigore di una legge che nel legittimare una irragionevole durata dei processi rischia di consegnare alla fase esecutiva un soggetto che è totalmente altro rispetto a quello che è stato giudicato nell'ambito del processo penale. Ricordo che quando un giudice commisura la pena e lo fa sulla base dei criteri di cui all'articolo 133 del codice penale che è vero sono criteri caratterizzati da una assenza di scopo perché il legislatore fascista del 1930 volle lasciare libere le mani del giudice nel perseguire le finalità della pena che in rapporto al caso specifico egli intendeva privilegiare e quindi prevenzione generale, prevenzione speciale, retribuzione ma oggi il 133 va integrato con il 27 terzo comma della Costituzione e quindi la commisurazione della pena deve essere orientata alla prevenzione speciale in chiave di risocializzazione in altri termini il giudice quando commisura la pena lo deve fare ponendosi il problema di quanta pena sia necessaria in fase esecutiva per avviare il condannato verso un esito, verso un risultato di risocializzazione ebbene, quale sarebbe la razionalità dei criteri di commisurazione quale sarebbe la sorte che tocca ad un'opera così delicata qual è quello che pone il giudice una volta acquisita la prova della colpevolezza e quindi una volta che egli si sia determinato ad affermare la responsabilità dell'imputato qual è la sorte di questa operazione delicatissima quello che mette il giudice in comunicazione con le esigenze di risocializzazione dell'imputato in concreto quale emerge da ciò che ha fatto al tempo della condotta penalmente rilevante e da quello che magari ha fatto successivamente fino al momento del giudizio cosa ne sarebbe di questa operazione, ripeto, in cui occorre grande sensibilità, cultura capacità di introspezione, di approfondimento nei limiti naturalmente consentiti dalla conoscenza che offre il processo penale noi sappiamo che il nostro processo penale è un processo penale che tra i deficit che registra annovera quello di non approfondire sufficientemente la conoscenza dell'autore è un processo in cui tutte le energie delle parti contrapposte sembrano canalizzate sul fronte dell'accertamento del fatto dell'accertamento della responsabilità quanto poi il soggetto debba considerarsi colpevole è un discorso sul quale il processo penale non aiuta molto bene, allora cosa accadrebbe all'opera di commisurazione del giudice se la sua esecuzione dovesse essere posposta di dieci anni, dodici anni e perché no, se non quindici anni di recente abbiamo avuto, visto che spesso nel dibattito pubblico si cerca, ab sit in uria verbis, di inquinare la coerenza e la razionalità del discorso facendo riferimento ai casi specifici vorrei ricordare che in uno stato di diritto il compito del diritto, del diritto in generale, del diritto penale in particolare non è quello di ricercare a tutti i costi la giustizia della soluzione nei singoli casi perché questo appartiene al padre eterno appartiene a concezioni teocratiche appartiene alle ossessioni totalitarie di stati che intendono impadronirsi della vita delle persone in uno stato di diritto il diritto e il diritto penale in modo particolare deve avere a cuore la legalità delle soluzioni di tutela che a loro volta devono potersi fondare su bilanciamenti ragionevoli di interessi contrapposti bene di recente è accaduto che il soggetto che era stato tratto a giudizio per rispondere del crollo di un edificio nel centro di Roma dove sotto c'era una tipografia e che determinò la morte di credo una o due persone è stato assolto per non aver commesso il fatto dopo 21 anni dopo 21 anni dal fatto ecco allora se mi chiedo se questo soggetto fosse stato condannato che pena avremmo eseguito e che significato sul piano della razionalità avrebbe acquisito l'esecuzione di quella pena nei confronti di un soggetto che è stato sulla graticola del processo penale per 21 anni allora il principio della rieducazione della pena sicuramente finisce per essere mortificato da una soluzione di questo tipo ma io direi che finisce per essere mortificato forse vedete una libertà e un diritto fondamentale che non trova espressa consacrazione nella nostra carta ma sul quale credo che non solo nessuno dubiti della meritevolezza di tutela ma sul quale nessuno dubita della sua collocazione a livelli apicali della gerarchia dei valori il diritto a programmare il proprio futuro il diritto ad essere signore delle scelte che negli anni a venire possono riguardare il diretto interessato non un diritto vago il diritto a stabilire se e quando sposarsi se e quando avere dei figli se e quando andare a studiare all'estero se e quando organizzare diversamente la propria attività di lavoro questo fascio di attese viene spazzato via dalla incertezza legittima e cronica della durata dei processi addirittura di un processo nel quale il soggetto sia stato in primo grado assolto altro principio che viene in evidenza è evidentemente il principio della presunzione di non colpevolezza vedete questo principio potrebbe ritenersi che non entri in rapporto di collisione con la legge che blocca la prescrizione con la sentenza di primo grado se noi cancellassimo ogni conseguenza pregiudizievole collegata alla pendenza di un processo se dalla pendenza di un processo e ancor più magari dalla emissione di una misura cautelare e da una sentenza di condanna di primo grado noi come ordinamento non facessimo discendere alcun tipo di implicazione negativa incidente sul diritto di iscriversi in una short list professionale per poter avere incarichi non incidesse sulla informazione antimafia non incidesse sulla white list per partecipare alle gare pubbliche ecco se noi vivessimo in uno stato nel quale si decide di azionare la leva delle preclusioni ad agire nel campo economico nel campo sociale in generale solo con la sentenza di condanna passata ingiudicato allora io direi che il principio della presunzione di non colpevolezza rispetto a questa legge non registra nessuno scuotimento ma sappiamo che la realtà normativa è completamente diversa addirittura con l'esercizio dell'azione penale noi inneschiamo una scia di conseguenze pregiudizievoli che ahimè determinano spesso e indipendentemente dall'esito del processo penale delle conseguenze disastrose nelle vite delle persone sul piano del metodo consentitemi di dirlo ma noi blocchiamo la prescrizione per quale ragione perché diciamo non vogliamo vivere lo stato di disagio che deriva dal fatto che una certa percentuale di vicende giudiziarie non giunge a sentenza nel merito per il decorso del tempo ma questo rimedio è un rimedio che avrebbe presupposto ben altre scelte o diciamo noi possiamo incidere su quella che è la conseguenza di un meccanismo malato anziché preoccuparci di rimuoverne le cause e allora se me lo consentite io credo che quello che sia mancato ma naturalmente non è un discorso che riguarda questi anni quello che sia mancato nella politica criminale del nostro paese sia una riflessione approfondita su quale sia su quale debba essere la quantità di punizione compatibile con i livelli di implementazione dell'amministrazione della giustizia penale fino a quando noi non risolviamo a monte il problema della quantità di penale che è gestibile nella situazione di ordinamento giudiziario e di processo noi avremo sempre una quantità eccedente di domande formalizzate di tutela rispetto alla capacità del sistema di digerirle e di portarle a soluzione e allora del resto questo per dire che molti dicono in realtà noi dovremmo prima porre mano alla questione dei tempi del processo e poi potremmo legittimamente occuparci della prescrizione certo sarebbe già un primo passo in avanti sulla via della razionalizzazione di questa scelta ma mi permetto di rilevare che ancora prima quindi prima ancora del contingentamento dei tempi del processo dovrebbe venire una ridefinizione dal profondo radicale sul catalogo dei reati sul sistema penale nel suo complesso sulle decine di migliaia di ipotesi di reato che affollano il nostro diritto penale e questa la vera prima riforma da cui evidentemente occorrerebbe prendere le mosse poi per andare a definire snodi importanti come quello della prescrizione per cui io vedo in questa legge è una forma di decadenza della nostra civiltà sta tramontando la civiltà giuridica moderna e sta tramontando non perché stiano venendo i barbari dall'esterno a picchettarlo e a far cadere questo edificio ma perché probabilmente noi non siamo custodi attenti a rinverdire principi che sono stati introdotti nei sistemi moderni con il sangue con i sacrifici i martiri non sono soltanto i martiri degli ultimi anni che hanno combattuto legittimamente con grande sforzo e con grande capacità di energia i poteri criminali i martiri della modernità sono anche quelli che hanno voluto rompere con un assetto di antichi regimi caratterizzati da sopprusi classisti da forme di sevizie nelle reazioni sanzionatorie e tutto questo è un patrimonio che noi non possiamo disperdere e dovremmo avere cura invece di custodire a beneficio di quelli che verranno grazie professore chiedo ai colleghi se ci sono domande chiarimenti da rivolgere onorevole Vitiello grazie presidente professore maiello soltanto una sì soltanto una precisazione anzi una curiosità che mi sovviene dopo averla ascoltata ma come è possibile che in un sistema penale idealizzato nel 1930 e quindi sotto un determinato tipo di regime si sia registrata la necessità di individuare una causa di estensione del reato come la prescrizione sebbene il paradigma a monte dovesse indicare una via contraria rispetto a questo presidio di garanzia che è la prescrizione grazie 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 ci sono anche riflessioni grazie ovviamente contenuti ma a disposizione certo guardi quello che lei ha introdotto con la domanda in realtà si salda con il richiamo che io mi permettevo di fare alla tradizione giuridica europea ora tranne le battute dal resto registrate se in occasione delle esperienze totalitarie tedesche spagnole e in parte italiana sicuramente il codice del 1930 è un codice statocentrico è un codice poco rispettoso quando parlo di codice io poi parlo della codificazione penale fascista quindi di una codificazione che teneva insieme il codice penale ed il codice di procedura penale perché saranno stati anche fascisti ma diciamo in quel tempo non faceva difetto la sapienza tecnica e la capacità di visione corretta dell'impostazione dei problemi e ci si rese conto che diritto e processo penale sono due facce della medesima medaglia uno dei difetti della della riforma del codice di procedura penale del 1988 è stata quella di non essersi accompagnata ad una riforma del codice penale per cui il processo accusatorio è refrattario a un determinato tipo di diritto penale con determinate fatti specie ma diciamo il discorso qui ci porterebbe molto avanti la ragione per la quale anche un codice statocentrico e liberale come il codice del 1930 volle disciplinare come causa di estinzione del reato la prescrizione si connette a quella che era una presa d'atto circolante nella cultura europea almeno da un secolo fino a quel momento vale a dire che il tempo era un fattore non indifferente non neutro rispetto ai contenuti di giustizia di cui si deve far carico anche l'amministrazione della giustizia penale e quindi il fatto che nel codice del 1930 ci fosse una disciplina della prescrizione fa capire come anche a un legislatore che sicuramente privilegiava esigenze di prevenzione generale negativa quindi esigenze di deterrenza esigenze di fare terra bruciata intorno al crimine organizzato e individuale stesse a cuore un principio che veniva ritenuto irrinunciabile vale a dire che se entro un certo tempo lo Stato non riesce a regolare i conti nascenti dalla propria pretesa di punire andasse privilegiato il diritto di libertà del destinatario vorrei anche rilevare che una riforma del tipo di quella che entrerà in vigore a gennaio sicuramente mortifica anche le aspettative delle vittime del reato delle persone offese e le mortifica in maniera pesante anche un soggetto che è stato pesantemente leso da azioni criminali vuole acquietare la propria coscienza vuole venire a capo di quella che è la contesa che lo Stato ha messo in campo per rispondere al bisogno di dare protezione al suo diritto e quindi mi pare che invece far convivere il diritto delle persone offese ad ottenere una risposta adeguata ai livelli di legalità nascenti dal reato commesso in suo danno farla convivere con un tempo indefinito non sia una risposta degna di uno Stato di diritto io ringrazio il professor Maiello dell'Università Federico II di Napoli per il contributo prezioso che ci ha dato ne faremo tesoro come tutti gli altri che si sono succeduti durante queste ore evidentemente è un tema piuttosto sentito dalla Commissione credo che è una ragione in più il contenuto dei contributi che ci sono stati offerti oggi per dire che abbiamo fatto bene a fare le audizioni perché sono stati utili informazioni e anche utili supporti all'eventuale possibilità di migliorare la proposta di legge e di discuterla con serenità quindi ringrazio ancora una volta il professore e a questo punto aggiorno la seduta alla giornata di domani per le 9.30 per l'esame del parere della proposta di legge sul bilancio grazie a tutti buona giornata buona sera grazie a tutti